Bene, a proposito di mense, avete anche sentito che si parla molto di quello che spenderanno gli italiani per le feste, il cenone di Natale, 25, quest'anno poi sono tre giorni davvero cenone, 25 e 26 che fanno davvero pensare a qualche chilo in più. Che cosa voglio dirvi? Plaudo all'iniziativa che è stata fatta dall'assessore all'ambiente per quanto riguarda il mercato ortofrutticolo di Caltarissetta. Vabbè, Caltarissetta vale lo stesso per Ragusa, vale per Ragusa, vale per altri posti, perché? Cos'è accaduto? che il corpo forestale dello Stato che si è recato al mercato per controllare tutta la merce che sta per essere venduta proprio in questi giorni e chiaramente si tratta di merce che andrà a ruba l'uva, prodotti anche molto importanti. Allora sapete cosa è accaduto? Sono state elevate multe per almeno 9 mila Euro, ma sono stati soprattutto individuati dei casi di tracciabilità non chiara. Guardate, c'è davvero tantissima roba meravigliosa, arancia, mandarine, limoni, uva, avete visto quello che c'è in un grande mercato ortofrutticolo di un capoluogo di provincia come può essere Caltarissetta e allora questa cosa è da applaudire, quindi non è una persecuzione che si fa nei confronti dei lavoratori, dei commercianti, di quelli che stanno al mercato, ma il fatto che ci sia la sicurezza, che i prodotti sono tracciati, che quindi non c'è roba che viene da chissà dove. Poi è chiaro c'è la concorrenza, la concorrenza è un'altra cosa, se il prodotto è tracciato e costa meno non ci puoi fare assolutamente niente, è giusto che sia così. Allora a questo punto devo dire che l'iniziativa è molto interessante e che sarebbe da riportare anche in altri territori, perché ovunque ci teniamo che quello che andrà sulle tavole degli italiani, in questo caso dei siciliani, sia roba giusta, come si deve, roba buona. Poiché ci siano i prezzi più alti, capite sempre che c'è l'offerta, la domanda e l'offerta, quindi se la domanda è alta, l'offerta chiaramente poi il prezzo sarà alto, però questa iniziativa, complimenti, corpo forestale dello Stato, non so se anche a Ragusa sono in grado di fare queste cose, ma sarebbe certamente interessante. A proposito di cose interessanti, due cose sono state segnalate dal Movimento Territorio, che proprio mi ero ripromesso di riprendere. Il Movimento Territorio dice che non si sa più niente dei lavori al teatro marino, io non lo so questa cosa, so che sono andati avanti, hanno fatto cadere tutti gli interni, ormai il teatro marino è stato a un certo punto svuotato, proprio completamente senza nulla e quindi dovrà essere rifatto completamente tutto, questo è importante. Però c'è una segnalazione per quanto riguarda Biale dell'Antelena e il famoso cinema L'Alicata. Io so bene che Peppe Cassì ha tentato, appena si insediò, di fare un discorso con la famiglia proprietaria del cinema L'Alicata. Allora ci fu un diniego, poi dobbiamo dire c'è stata la scomparsa del dottore Grana e ora ci sono i figli. Ora voglio dire, quale può essere il futuro di questo cinema L'Alicata in pieno centro cittadino che occupa una buona parte di Viale Tenente Elena, una via importante costruita in seguito al passaggio da questa parte di Ragusa che prima finiva al Ponte Nuovo, poi col Ponte Nuovo Piazza Libertà che Cesare Bocchino ha chiamato Piazza Impero. L'altro giorno questo Viale Tenente Elena che è una via bella larga, molto triste, devo dire la verità, è occupata da una gran parte da questo cinema L'Alicata. Qual è il futuro? Io faccio quasi quasi un appello. Cosa si potrà fare nel futuro se non c'è un'amministrazione comunale e in collaborazione ci si mette a fare qualcosa di positivo? Quindi piuttosto che lasciarlo deperire e decadere e cadere a pezzi come poi è successo con il cinema Marino, perché non si trova una soluzione? Quindi io dico che Peppe Cassia aveva fatto un ottimo lavoro e era riuscito a fare qualcosa di buono ma che potrebbe tranquillamente insistere e vedere se magari a questo fine mandato senza sapere cosa accade dopo qualche d'uno della famiglia possa ripensare e rivedere. Perché poi il problema sono sempre i soldi, questo è il cinema Marino che era praticamente sventrato, lo vedete che in questo... Però la cosa importante è che riconquistando degli spazi che possono essere il cinema Marino e anche il cinema Legata si possano ridare spazi al teatro, perché noi dobbiamo andare al cinema 2000 che funziona, grazie a Dio, dove si paga tanto e dove possono venire solo le compagnie che fanno grandi numeri, se no non si può fare niente. Chiudiamo il nostro telegiornale con una pagina di sport molto ampia, però voi potete anche... Solo per gli appassionati di pesca, dopo Gianni Papa, ci sarà un ampio servizio, quasi un documentario su una grande manifestazione di pesca. Ci sono gli appassionati e la seguiranno con interesse. Io vi saluto, grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.